Gli esperti tornano sulle tracce dell'uomo che visse nella zona delle Colombare di Negrar tra il 4300 e il 2000 a.C. Si torna a scavare dopo 60 anni di stop. L'ultimo fu infatti l'allora direttore del Museo di Storia Naturale di Verona, Francesco Zorzi, nel 67. Le sue ricerche portarono a galla reperti storicamente molto importanti, come la ceramica, i manufatti in selce, pietra levigata e un'asce in rame. E da qui la soprintendenza ai beni culturali di Verona, Vicenza e Rovigo, in collaborazione con l'Università di Milano, cercheranno di ricostruire il clima, il rivestimento vegetale e l'economia di sussistenza di quei secoli. Io è duplice. Da un lato raccogliere dati aggiornati, scientificamente attendibili, sulla natura di questo sito archeologico e sull'ambiente in cui questo sito si trovava all'epoca. Quindi il nostro interesse è cercare di ricostruire la vegetazione, il clima, quindi le precondizioni ambientali per la vita anche economica dell'uomo antico. E dall'altra il nostro obiettivo è concorrere effettivamente alla tutela e alla valorizzazione del sito anche nella prospettiva di un godimento pubblico. Un'attività ben voluta anche dall'amministrazione di Negrar. Insieme a loro valorizzare il territorio non solo da un punto di vista economico e per quello che sa produrre, perché la Valpolicea e la Negrar sono conosciuti in particolare per l'importante produzione del vino, ma farlo conoscere anche per le bellezze ambientali, culturali, paesaggistiche che abbiamo. Questo è un po' il significato. Io credo molto che la valorizzazione, gli ospiti, coloro che arrivano, i turisti, vengano a prendere un buon prodotto, ma devono portarsi via anche la bellezza del territorio.